Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Questa mattina stiamo affrontando un tema molto importante, quello dell'alimentazione e di come ci si può approcciare al cibo. È un argomento importante perché riguarda la salute dei cittadini e quindi tutto il sistema in cui noi siamo immersi, perché oltre a problemi sanitari all'alimentazione sono legate istanze che riguardano l'ambiente ma anche poi di fatto l'economia. Basta di pensare che la maggior parte dei bilanci degli Stati europei è dedicata a curare i problemi legati alla malattia. Quello che noi oggi vogliamo fare è dare degli elementi in più, perché io mi permetto di raccontare quella che è un po' la mia esperienza di questi due anni nel Parlamento europeo. Io ritengo che sia importante, in qualche modo soprattutto per noi che in questo momento abbiamo la fortuna di rappresentare i cittadini all'interno delle istituzioni, porsi in questo ambiente con una visione a lungo termine, una visione che necessariamente deve pensare in grande, deve sganciarsi in qualche modo dai meccanismi in cui siamo immersi che ci fanno sì spesso compiere dei giusti passi verso quella che è una buona direzione, ma sono passi spesso purtroppo singoli, non collegati l'uni agli altri. Quello che noi dobbiamo rompere è questo legame che apparentemente ci fa apparire come procedere veloci, ma in realtà ci sta tenendo in qualche modo fermi. L'incontro di questa sera vuole dare spunto a questi elementi, aprire un dibattito in questo senso. Ovviamente mi rendo conto che non è facile procedere in questa direzione perché siamo immersi in un sistema che ci tiene in qualche modo legati, imbrigliati, un sistema costruito negli anni e che dà da mangiare anche dal punto di vista economico, non solo a lobby molto grandi e potenti, ma a tutta un'economia che è stata costruita su questi presupposti. Allora noi dobbiamo, soprattutto noi che come istituzione abbiamo l'onere anche in qualche modo di assecondare la via del cambiamento, dobbiamo rompere questo legame, rompere questi schemi per costruire sì una economia diversa, ma molto molto più robusta e che realmente metta al centro della sua attività i cittadini e la loro salute e il loro benessere, da cui poi a catena discendono il benessere ambientale, economico, sociale e via dicendo. Quindi vi ringrazio di essere qui quest'oggi, spero dopo che ci possa essere un acceso dibattito rispetto agli spunti che verranno presentati. Io ringrazio tantissimo il Movimento 5 Stelle, nella particolare figura di Marco Zullo e dell'Onora Evi, perché ci hanno voluto invitare qui oggi. B4IT, l'ha detto, ci hanno presentato, sono Nicola Signorelli, sono fondatrice di B4IT, ma io sono semplicemente il portavoce di circa 38.000 italiani oggi, che stanno facendo la stessa domanda che mi sono fatta io cinque anni fa e che di fatto si sta facendo tutta l'Europa, per questo è importante essere qui oggi. Vale a dire che cosa possiamo fare noi personalmente con la nutrizione, con l'alimentazione, tutti i giorni, con la spesa. È un movimento importante di coscienza, una rivoluzione, che B4IT condivide come movimento con il Movimento 5 Stelle, quello proprio di informare, di portare le persone a conoscenza di quello che effettivamente oggi si può dire. Il professor Colin Campbell è stato un insegnante per noi, sia perché ricercatore, quindi medico scientifico, che ha approvato determinati argomenti e quindi può in qualche modo supportarli, ma anche grazie all'umiltà che ci sta insegnando di dover lavorare tutti insieme. Oggi l'Italia sono 38.000, ma possono esserci così anche in molti altri paesi d'Europa. Questo è il nostro messaggio, quello di unirsi, perché il vero cambiamento non può avvenire dall'apice, ma può avvenire solamente dalla base, dalla consapevolezza che noi abbiamo di coinvolgere noi stessi, ma soprattutto i nostri vicini, che possono essere parenti, i nostri parenti diventano persone che in qualche modo vanno a chiedere conferma di quanto hanno sentito, chiedere informazione e in questo modo si cambia effettivamente il modo di fare. E' importante che oggi questo avvenga proprio in Europa, nel Parlamento europeo, in un movimento che si sta creando, con una personalità che in questo momento sta supportando tutto questo e sta incoraggiando questo tipo di movimento. Grazie per questa presentazione. Voglio innanzitutto esprimere tutta la mia soddisfazione per l'interesse che avete manifestato. Sono davvero molto contento e vorrei ringraziare Marco Zullo e Eleonora Evi per aver organizzato questo evento, per avermi invitato. Ringrazio anche l'ottima amica Nicola Signorelli e Marco Polo. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi vi ringrazio. L'argomento che voglio trattare è quello della nutrizione. Io me ne occupo da tanto tempo e mi interessa specialmente parlare della scienza dell'alimentazione, dimostrando quali sono le tesi, le prove che sottengono la mia tese. Nel corso degli anni io ho imparato che la nutrizione può offrire molto di più di quello che io stesso abbia mai potuto immaginare. Quindi sono partito da un'ipotesi, e cioè la nutrizione può prevenire e trattare la malattia più efficacemente di qualunque ricetta o di qualunque farmaco o pillola. So che è una cosa forte da affermare, ma io ci credo davvero. Sono Stefano Magno da Roma, e diciamo nella mia, volevo non più che fare una domanda... Scusami un attimo Stefano, visto che il tempo si sta concludendo, allora tu Stefano, poi c'è il signore qui, la signora, il ragazzo e l'altro ragazzo. Ok, poi facciamo tutte le domande assieme così poi... Sarò breve e non è esattamente una domanda, ma una riflessione, diciamo, da sottoporre al gruppo. Da oncologo la mia esperienza è che sicuramente la rivoluzione parte dal basso, su questo non c'è dubbio, anche perché formando medici, se siamo bravi a farlo nei prossimi corsi di laurea, avremo dei risultati fra 20 o 30 anni ed è troppo in là. Però voglio dire, questo cambio culturale non dipende soltanto, anche se la base è da una corretta informazione, quindi innanzitutto la consapevolezza, ma ci vuole anche qualcosa che ha a che fare con la motivazione, perché il cibo è anche un qualcosa di emotivo, lo sappiamo tutti, quanto è difficile, per esempio, convincere una persona che magari ha un tumore del seno, ormonosensibile, ad abbandonare il latte perché può avere delle ripercussioni. Ora, tutto questo deve essere affrontato anche da un punto di vista emotivo. Io penso che una persona che ha affrontato il problema, che sta affrontando il problema del tumore, sia un ottimo momento nella propria vita, proprio per il trauma emotivo che si porta dietro, di farsi a quel punto portavoce di un cambio culturale, mentale, nell'alimentazione. Voglio dire che in questo senso, in questa rivoluzione, un ruolo fondamentale potrebbero averlo le associazioni di pazienti oncologici. Io volevo, partecipo sempre diverse volte a questi convegni come questi, dove escono argomenti molto importanti, però mi lanciavo, volevo lanciare un appello alla vostra responsabilità, perché questo è una serie importante, tuttavia da qua deve uscire qualche cosa, e qualcosa esce solamente se voi portate a casa qualcosa, perché oggi le evidenze scientifiche ci sono, è possibile però che ognuno di noi personalmente riesca a investirne qualcosa per risolvere qualunque problema. Ci sono i problemi delle mense, ci sono i problemi delle mense scolastiche, mense ospedaliere, c'è il problema della formazione dei medici, però questi sono problemi che se ognuno di noi, nel suo piccolo, riesce in qualche modo a investirsi in responsabilità, può risolvere, perché le evidenze scientifiche ci sono, quindi è un appello a chiunque, è qui oggi ma ci sta anche ascoltando, di non parlarsi addosso, ma di uscire a lavorare insieme, perché lavorando insieme le cose si possono cambiare, questo è qualche cosa che ci meritiamo e che dobbiamo superare e andare oltre questa cosa, perché non ricordiamoci che oggi è possibile perché ci sono cittadini che si sono mossi, muovendosi i cittadini qualcosa si può ottenere e ognuno nel proprio piccolo qualcosa può fare, è un messaggio importantissimo da portare a casa oggi, altrimenti questo incontro sarebbe stato nullo. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie.